Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. I resti di una donna sono stati trovati in una valigia in un accampamento di senza tetto. Si tratta del primo aggiornamento noto a quasi un anno dalla sua scomparsa avvenuta l'anno scorso. Stando a quanto riportato dal quotidiano, pochi giorni prima del ritrovamento dei resti della donna scomparsa, si era verificata una sparatoria nei pressi dell'accampamento dei senza tetto, cosa che aveva spinto le autorità a sgomberarlo. I resti della donna sono stati trovati in una grande valigia da una squadra, che lavorava con il Dipartimento dei Trasporti e un'associazione che si occupa dei senza tetto. La donna era Shannon Marie Weaver, scomparsa un anno fa. Il ritrovamento della donna scomparsa è stato fatto all'interno di un accampamento nel distretto di Jose Wissoprach di Seattle, dopo che le persone che stavano sgomberando hanno sentito odore di decomposizione. Secondo il Seattle Times, dopo il loro ritrovamento, i resti di Shannon Marie Weaver, 37 anni, sono stati consegnati all'ufficio del medico legale della contea di King, che determinerà la causa della morte, secondo la pattuglia statale. La Washington State Patrol avrebbe ritenuto che vivesse nella zona, e sarebbe stata vista l'ultima volta nel novembre 2023, secondo quanto riportato dal giornale.